Domani nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni alle 10 sarà presentato il rapporto annuale INAIL Sicilia. In Sicilia sono state oltre 25.000 le prestazioni per prime cure per lavoratrici e lavoratori a seguito di infortuni sul lavoro. Ben 779 il numero delle aziende ispezionate nel territorio siciliano e 20 le iniziative tra progetti ed eventi realizzati per accrescere la cultura della sicurezza. Intanto sono stati stanziati oltre 18 milioni di euro per le imprese siciliane per aumentare i livelli di sicurezza sul lavoro con il bando ISI. Le verifiche nell'intera isola hanno riguardato 4.800 attività sia per le attrezzature che per le macchine e gli impianti di cui sono stati accertati i livelli di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Questi sono solo alcuni dei numeri del rapporto regionale INAIL Sicilia che il direttore regionale dell'istituto in Regione Carlo Biasco presenterà domani all'incontro organizzato dalla direzione regionale INAIL Sicilia con il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana alla presenza del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana L'Onorello Gaetano Galvagno e del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL Guglielmo Loi dei rappresentanti del Governo regionale e delle più alte cariche civili, religiose e militari presenti in Sicilia. Interverranno Mario Larocca, dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'assessorato regionale della salute e Salvatore Favuzza, coordinatore del corso di laurea in Ingegneria della Sicurezza che presenterà l'accordo tra l'Università di Palermo e l'INAIL per formare i nuovi professionisti per la salute e la sicurezza in Sicilia.